L'obiettivo della mia ricerca è capire come le spiagge italiane, come le coste italiane, riescono a sviluppare autonomamente dei sistemi di difesa contro l'aggressione da parte delle mareggiate. Minacce che ormai sappiamo essere praticamente inevitabili e che quindi dobbiamo studiare e affrontare in tempo. Conservo nel cuore con grande affetto la mia prima esperienza in un convegno scientifico che è stato in Italia a Bari. Ho avuto veramente la prima idea di come la ricerca scientifica possa riunire le persone in un unico grande progetto che appunto possa aiutare a vivere meglio il mondo in cui viviamo. Soprattutto rispettarlo e capire come proteggerlo ancora di più.